Voglio ringraziare tutti quanti i viestani, non solo quelli che hanno partecipato a questo momento di preghiera eucaristica, ma tutti quelli che avrebbero potuto o voluto esserci e non ci sono. Un grazie al Signore e un grazie dovuto perché da solo io, prete, non avrei potuto fare niente senza il popolo dietro. Grazie. Don Giorgio, dopo 50 anni di sacerdozio, cosa significa oggi essere ancora sull'altare a pregare, a esortare tutti e a rispettare la legge di Dio? Che la vita è un impegno continuo che non finisce mai anche a 50, 70, 80 anni. Cioè l'impegno di migliorarsi, di convertirsi, di camminare verso il Signore non ha termine, continua sempre nella vita.